Ho avuto una sensazione bellissima, ho visto che Jacopo e Andrea andavano in profondità e ho provato ad andare al centro dell'area, la palla è arrivata e sono riuscito a colpirla abbastanza bene per fare gol. Sono contento perché questo gol è servito per portare a casa i tre punti ed era quello che volevamo. Sarebbe stato bello che in una situazione del genere ci fossero i tifosi allo stadio, però purtroppo la situazione è questa e festeggiamo anche senza di loro. Adesso domenica, sabato, affronteremo Ravenna che è una squadra che sta provando a salvarsi, quindi non sarà una partita semplice come magari tanti possono pensare. A volte incontrare le squadre che si devono salvare è molto più difficile che incontrare le squadre con una qualità tecnica più alta. Non sarà facile ma cercheremo di interpretarla nella maniera giusta con l'atteggiamento che serve per vincere le partite. Questo finale di campionato il Perugia vuole affrontarlo da protagonista perché non potrebbe fare altrimenti. Sappiamo che non dipende solo da noi, però noi dobbiamo guardare solo a noi stessi perché probabilmente in passato abbiamo fatto l'errore di guardare più il risultato delle altre squadre che i nostri e qualche punto l'abbiamo lasciato per strada, ma ormai è inutile guardare indietro. Guardiamo avanti e affrontiamo queste ultime tre gare come tre finali. Questo gol lo dedico un po' alla squadra. Lo tengo anche tanto per me perché insomma, come tutti i compagni, lavoriamo tanto in settimana e cerchiamo di farci trovare pronti. Quando il mista ci viene chiamati a volte ci si riesce, a volte no. Oggi sono contento che questo gol ci sia servito per dare quella spinta che potrebbe servire per fare queste ultime tre partite di campionato nella maniera giusta. Il mio percorso è stato che sono arrivato qui l'ultimo giorno di mercato disponibile, chiamiamolo estivo perché quest'anno è un anno un po' particolare. All'inizio è stata dura perché mi sono fatto male praticamente subito e non ho potuto dare una mano alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Poi dopo un primo periodo dove magari trovavo poco spazio sono riuscito a trovare un po' di continuità, qualche gol che sicuramente per un giocatore offensivo è sempre utile. Poi la sfortuna, diciamo, degli infortuni mi ha colpito di nuovo, non così gravi però quel tanto che è bastato per tenermi fuori un altro paio di settimane. Poi sono rientrato, adesso sto bene e a Perugia, cosa posso dire, è una grande società dove mi trovo bene. L'unico dispiacere che ho è che sono capitato nell'anno dove lo stadio, anzi, tutti gli stadi sono chiusi, qui a Perugia si soffre un po' di più questa cosa perché la piazza non serve presentarla. Questo è il dispiacere che ho più grande e non poter giocare con lo stadio in casa pieno come più o meno è sempre stato. Cerchiamo di finire bene questo campionato con tre vittorie a partire da sabato, poi i conti li faremo alla fine. Io qui sto bene, ma è ancora presto per fare certi tipi di discorsi.